E così, come Rio 2016, Elisa Longoborghini conquista una medaglia di bronzo nella prova in linea femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, tra parentesi 2021. Sono soddisfatto di questa medaglia, anche se resta veramente tanto amare in bocca, soprattutto per come si è corsa questa gara con le nazionali più importanti, in primis l'Olanda, ma anche appunto la nostra Italia, la Germania, la Francia, che hanno veramente sprecato un'occasione incredibile. È stata una dormita di gruppo fino a sostanzialmente agli ultimi 25-30 chilometri e questo ha consentito alle fuggitive, in cui erano presenti elementi comunque di un certo calibro, di conquistare appunto il titolo olimpico. In particolare Anna Kisenhofer, che ha fatto veramente una prova spettacolare, una cavalcata solitaria incredibile dopo aver staccato le compagne di fuga. Lei che ricordiamo è svincolata. Anna Kisenhofer non ha la squadra, non ha trovato alcuna squadra che la volesse nelle proprie fila e va a conquistare l'oro e il titolo appunto olimpico. E direi che l'anno prossimo la squadra la troverà tranquillamente. Ma partiamo subito parlando appunto dell'inizio della gara, una gara di 136 chilometri caratterizzata dalla presenza della salita di Dusche Road, dal Cagosaka Pass e da due giri nel circuito finale molto mosso, comprendente anche il circuito automobilistico del Fuji Speedway. Una fuga veramente molto pericolosa in cui erano presenti due africane, la sudafricana Carla Oberölder e la nabibiana Vera Loser, che sono state le prime a staccarsi, ma soprattutto la Anna Pliksta, la polacca, Anna Kisenhofer appunto l'austriaca, Omer Schafira, l'israeliana, tutte e tre atleti di un certo calibro, tutte e tre passiste di un certo livello. Queste ragazze arrivano a guadagnare oltre 9 minuti e 30, veramente un vantaggio molto molto elevato, soprattutto considerando la ridotta presidenza di atleti nel gruppo, perché ricordiamo che già le Olimpiadi maschili, le squadre sono molto ridotte, le Olimpiadi femminili sono ulteriormente ridotte, quindi il gruppo era molto molto piccolo. Non c'è stata collaborazione nei primi chilometri, si sono fatti praticamente una dormita di gruppo, le hanno mandate quasi a 10 minuti e appunto è stato impossibile poi andare a recuperare, grazie appunto a un'azione incredibile dell'austriaca. Molto della colpa secondo me è anche dovuta al caldo, alla paura che gli atleti avevano di questo caldo affoso che sta colpendo appunto in questo periodo il Giappone, con Van Vleuten che è parsa in difficoltà nelle prime fasi, continuava a prendere ghiaccio, borracce, sembrava veramente molto molto accaldata, la temperatura poi è un po' calata negli ultimi chilometri, questo ha permesso diciamo alle atlete di rimanere un minimo più fresche, però insomma è stata veramente una gara molto dura a causa del calore affoso. Primi attacchi nel gruppo che arrivano lungo la salita di Dushy Road, tra le più attive troviamo Ruth Winder, la statunitense, ma soprattutto Annemiek Van Vleuten che nel finale riesce a fare la differenza, guadagnare rapidamente oltre 30 secondi. Arriverà a guadagnare fino a un minuto e 20 dato che dietro nel gruppo continueranno a dormire. Nel frattempo si staccano le varie, Emma Norsgaard è la prima a staccarsi diciamo delle possibili favorite, lei comunque è una velocista, era un percorso troppo duro per le sue caratteristiche, si stacca anche Marta Bastianelli, un percorso che sarebbe potuta essere adatto appunto all'atleta italiana fino a qualche anno fa, ma quella che è la Bastianelli degli ultimi due anni insomma fatica a reggere questo tipo di corse. Grace Brown, un'altra delle grandi favorite che molla subito, a sorpresa, ma anche Lea Kirkman, Thomas, Mayerus, Lippert, insomma veramente tanti atleti forti che lasciano il gruppo appunto lungo la salita di Dushy Road, lungo le rampe di Dushy Road. Sulla bordata appunto micidiale di Van Vleuten si stacca anche Lotte Kopeski che però riesce a rientrare successivamente grazie allo studio che appunto avviene nel gruppo inseguitore. Su Kagausaka Pass nel frattempo davanti Anna Kisnofer riesce a fare la differenza, la prima a staccarsi Anna Plichter ma in seguito molla anche l'israeliana Omer Schafira che appunto proseguono assieme all'inseguimento dell'Austriaca, Austriaca che però non sembra voler mollare, anzi. Nel corso del primo giro del circuito Anna van Vleuten viene ripresa, ci riprova Anna van der Bregen che però viene subito richiusa soprattutto dal lavoro della Germania, con Kisnofer che continua a comandare in solitaria andando a guadagnare bene due minuti sull'inseguitrice e sempre intorno ai quattro minuti e mezzo sul gruppo delle grandi favorite. Nell'ultimo giro ci provano a turno prima Kassian Nivea Doma, poi Anna van der Bregen, ci riprova Anna Mieke van Vleuten, tutto però inutile o meglio utile per la conquista delle medaglie d'argento di bronze perché nel frattempo Anna Plichter e Omer Schafira erano state riprese proprio sullo strappo che porta verso il Fuji Speedway. Alla fine Anna Casinofer riesce appunto a resistere, a conquistare un oro strepitoso e inaspettato, argento per Anna Mieke van Vleuten che attacca negli ultimi 6-7 km nel giro appunto all'interno del circuito automobilistico a 1 minuto e 16, con la nostra Elisa Langoborghini che coglie l'attimo dopo che l'Italia non ha fatto assolutamente niente per tutta la gara, l'Italia non ha tirato un metro, non ha attaccato un metro, sono sempre parse in difficoltà, sempre parse sull'oro di staccarsi, ma tatticamente Elisa Langoborghini è stata bravissima nel finale, ha colto l'occasione, ha visto Anna Mieke van Vleuten che partiva, non ha risposto subito perché era leggermente arretrata, però è partita subito dopo andando appunto all'inseguimento della olandese, per poco non riusciva a rientrare, alla fine conquista un'ottima medaglia di bronze a 1 minuto e 30, Lotte Kopecki a 1 minuto e 39 prova a fuoriuscire negli ultimi metri di gara, negli ultimi centinaia di metri di gara, prova a raggiungere Elisa Langoborghini ma si pianta nel finale, Lotte Kopecki che sarebbe stata pericolosissima in quanto è anche una velocista, quindi sarebbe stata pericolosissima in caso di arrivo in volata, con Marianne Voss che regola Elisa Brennauer per la quinta e sesta posizione all'interno appunto del gruppo delle altre favorite, con Marta Cavalli che penso abbia concluso in top 10, perché era lì nelle prime posizioni del gruppetto guidato da Marianne Voss. Insomma, una giornata dolce amara per il ciclismo italiano, perché comunque una medaglia è tanta roba, ma onestamente mi sa proprio di occasione sprecata. Ditemi un po' cosa ne pensate, siete contenti della medaglia, speravate in qualcosa di più, vedendo un po' anche la tattica di gara, cosa ne pensate? Ditemi un po' qui sotto nei commenti, tra l'altro c'è appena stata un'altra delusione con Odette Giuffrida, che purtroppo è uscita in semifinale, quindi lotterà solamente per una eventuale medaglia di bronzo per quanto riguarda il torneo del Judo, con anche Manuel Lombardo che era uscito in precedenza. Insomma, non una grandissima giornata per l'Italia, ci aspettano ancora delle ottime carte da medaglia nella scherma, però insomma, fino ad ora non è stata una grandissima giornata per l'Italia, a parte appunto questa medaglia di bronzo di Elisa Longoborghini. Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto, vi lascio un commento e un piacere iscrivetevi, se io ci sono la nostra pagina di segno, ci vediamo un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi alcun video delle Olimpiadi.